Non nascondono la loro amarezza i carristi all'indomani della decisione assunta da amministrazione meridiana di trasferire il carne male primaverile alla perriera, pur consapevoli che era l'unica decisione possibile per salvare la manifestazione. A una settimana del primo giorno di sfilata, nei giorni in cui le associazioni sono alle prese con i lavori definitivi alle strutture, i carristi da mesi al lavoro, seppur preoccupati, si dicono concentrati a completare i carri e a svolgere la manifestazione. Così, ai nostri microfoni, Paolo Labella, presidente dell'associazione, saranno famosi. Qual è l'umore dei carristi in queste ore a seguito delle ultime novità che vedranno la manifestazione spostarsi dal centro storico alla perriera? Diciamo che attualmente non è tanto lo spostamento in sé per sé, ma è la criticità per quanto riguarda una questione tecnica nel montaggio, nello smontaggio, abbiamo un trasferimento anche per il discorso dei carrelloni. Questo ci permette un pochettino di difficoltà e questo dobbiamo risolverlo nei migliori modi possibili, in quanto c'è questa forte criticità e abbiamo grossi problemi, anche perché dipende dal tempo che andiamo a trovare, lunedì, martedì, pioggia o vento, e dobbiamo trovare un luogo sicuro per le nostre strutture. E quel vento lì, rispetto al montaggio, vi può preoccupare? Sì, tantissimo. È uno dei nostri nemici del vento, perché avendo una certa altezza da 12 a 15 metri, l'oscillazione è molto importante da tenere in serie considerazione. C'è un po' il rammarico di voi carristi di avere comunque realizzato delle strutture adatte per il centro storico e quindi molto sviluppate in altezza piuttosto che in larghezza? Ma diciamo che il rammarico c'è, però attualmente andarsi a rammaricare, a puntare il dito, diciamo chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, polemiche, non risolve il problema. Dobbiamo essere uniti e cercare di risolvere la problematica che non è poco, anche perché siamo non soltanto l'associazione dei carristi in genere, ma c'è anche la Meridiana che ha le sue difficoltà, perché siamo due enti privati e il pubblico, cioè in questo caso il governo, ci deve essere vicino e garantire determinate sicurezze. Qual è l'umore che c'è in questi giorni nei garage? Ma guarda, l'umore, quello nostro è sentire l'inno, lavorare, cerca di essere più sereni possibile e portare un certo tipo di manovalanza e professionalità, sia tutti i cinque carri, più il sesto che Peppe Nappa. Questo c'è sempre, però giustamente all'interno c'è quel rammarico, perché a livello organizzativo, parliamoci di caro, senza nasconderci dietro un filo di palli. Io dico sempre una cosa, la gatta è frettolosa, fai gattini ciechi. Il Carnevale nel centro storico poi ha sempre il suo fascino? Sì, il suo fascino c'è perché è una questione storica, però io dico sempre e condivido nel rispetto delle leggi per la sicurezza. Al di là, e questo mi dà garanzia, attenzione, per i cittadini, per i bambini, per chi viene lo spettatore a vedere il Carnevale da parte del prefetto e all'organo di competenza di pubblica sicurezza. Questo noi dobbiamo dare atto, perché se lavorano in questi termini è per noi, è per i cittadini. Che Carnevale pensa che si sta avvicinando ormai? Ma un Carnevale diciamo un pochettino apatico, perché non si definisce bene, l'entusiasmo c'è, bisogna essere molto positivi, pensare positivi, perché altrimenti significa che ci affrosciamo. Il Carnevale è cercare di aggregare tutti quanti e essere protagonisti del Carnevale, divertirsi, soprattutto divertirsi.